Un'anima che non conosco veramente, che riconosco sinceramente ed accetto con serena gioia. L'essere allo specchio è un invito ad alzare lo sguardo e le braccia al cielo, un gesto richiesto ogni mattino, un invito ad accogliere e abbracciare il mondo, la vita e poi cercare Dio e il suo sguardo di infinito amore che libera da quel concetto esistenziale di solitudine globale rinchiusa nell'uomo allo specchio, che ogni giorno ringrazia di esserci e vivere. L'essere allo specchio, tu e Dio e l'intera umanità, semplicemente è l'essere allo specchio. L'essere allo specchio, tu e Dio e l'intera umanità. L'essere allo specchio, tu e Dio e l'intera umanità.